Questa mattina abbiamo riunito i lavoratori del piano di zona di Vallo della Lucania. L'assemblea si è tenuta in seguito al vano tentativo di conciliazione tenutosi dinanzi al prefetto di Salerno lo scorso dicembre. Il verbale fu negativo, dunque non abbiamo ancora una volta avuto assicurazione sul futuro occupazionale e lavorativo del lavoratore del piano di zona di Vallo della Lucania, dichiara Alfonso Rianna, segretario provinciale CGL. Nel corso della mattinata la protesta pacifica dei lavoratori del piano di zona S8 di Vallo della Lucania, il cui territorio di adesione risulta essere il più vasto in quanto costituito da ben 37 comuni, si è spostata dinanzi alla Casa Comunale in piazza Vittorio Emanuele II. Noi vogliamo risposte certe, siamo arrivati a un punto di non ritorno. Non accetteremo più passi indietro rispetto alle non decisioni che la politica non sta mettendo in campo. Anche se avevamo iniziato un ragionamento con la controparte partito dall'anno scorso, dal mese di giugno, che prevedeva l'arrivo nella costituzione di un'azienda consortile per dare poi la stabilizzazione e la tranquillità di un posto di lavoro alle professionalità che, ripeto, da 20 anni lavorano senza alcun diritto. Per cui oggi noi siamo qua a manifestare e nelle prossime ore comunicheremo attraverso un comunicato stampa la data dello sciopero. Vogliamo che finalmente, dopo oltre 20 anni, questa diatriba venga a conclusione che soprattutto tutte le forze lavoro del piano di zona di Vangalo della Lucania ma soprattutto del piano di zona di quest'ambito del Cilento venga stabilizzato per dare opportunità soprattutto di fine carriera a questi lavoratori da sempre bistrattati e dare continuità all'assistenza e soprattutto stabilizzazione ed occupazione a questi lavoratori precari da sempre. Questa mattina stiamo protestando in modo energico contro l'immobilismo purtroppo politico che da oltre un ventennio non dà risposte al territorio per assicurare in modo stabili i livelli essenziali obbligatori per legge. Faremo una serie di scioperi ad oltranza, non ci fermeremo, conclude Vincenzo Larocca. Continueremo questa lotta che ci vedrà protagonisti per dare dignità ai lavoratori e principalmente ai servizi per i più fragili, quindi per le persone che hanno più bisogno sul territorio. Questi lavoratori sono qua per una battaglia di dignità di questo territorio. Gli operatori dei servizi sociali sono gli operatori che garantiscono i servizi sociali su questo ambito e non possono essere lasciati in un precariato che non finisce mai. Questa è un'asserzione assoluta soprattutto oggi che l'Unione Europea e il Governo stanno puntando sui servizi sociosanitari territoriali attraverso anche l'integrazione di questi servizi. Sono lavoratori importanti per ogni servizio sociale. Ogni loro azione è un'azione che va a supporto della popolazione fragile. Sono loro che garantiscono tra l'altro anche le commissioni UVI, le commissioni nelle quali si stabiliscono i diritti per i lavoratori disabili e per i lavoratori più fragili. Una partita che è completamente introdotta anche nel PNRR e che quindi va supportata, non lasciata da parte.